Una cosa è certa, la statua è questa, è degatamelata, è molto rovinata. Il nodo della discussione è questo. Per la ristrutturazione è meglio farne una copia e spostare l'originale al riparo o meglio lasciarla all'aperto e visibile a tutti, che è lo spirito con cui Donatello l'ha realizzata. Versa in uno stato di degrado, non dico irreversibile, ma molto pericoloso. È evidente che è facile dire che è lì da sei secoli, lasciamo lì altri sei secoli. Il problema è capire se è in grado di sostenere il mutamento climatico, ma soprattutto i fattori inquinanti. C'è un processo di corrosione del bronzo e molti altri elementi inquinanti invitano a procedere urgentemente con la diagnosi e il restauro, affidati però a studiosi e scienziati internazionali. A partire dalle risultanze di un'analisi rigorosa fatta da scienziati e studiosi di esperti di materiali, ci dovranno dire se esporre ancora 10, 20, un secolo la statua ai fattori esogeni inquinanti è plausibile con la tutela del bene. Il Ministero si deve occupare innanzitutto di tutelare l'integrità di un bene culturale. Il sottosegretario Sgarbi ha dichiarato ai nostri microfoni che la statua deve rimanere dov'è e che si batterà per questo. L'assessore Corasio definisce Sgarbi un amico di Padova, città che ha sempre dimostrato di amare. Io credo che Sgarbi ha ragione quando dice che la bellezza dell'Italia è il fatto che è un museo all'aperto. È fondamentale che un comitato scientifico internazionale ci dica sì, la statua può essere lasciata ancora alle intemperie. Se ci dicono che è possibile farlo, ne prenderemo atto. Diversamente si valuterà una collocazione diversa. Ed è giusto che non siano i politici a decidere, ma i tecnici.